Pescara si ferma ad osservare il passaggio delle biciclette. Tutto pronto domani per la decima tappa del Giro d'Italia, la manifestazione di ciclismo su strada tra le più importanti al mondo. Partenza in riva al mare, da piazza Primo Maggio a Pescara, destinazione Iesi, nelle Marche, percorrendo la SS16. L'amministrazione pescarese cerca di limitare, quanto più possibile, i disagi per la cittadinanza, durante un evento che inevitabilmente paralizzerà la città. Il sindaco Carlo Masci, con un'ordinanza, ha predisposto la chiusura di tutte le scuole superiori e medie e di quelle elementari situate nei pressi del centro cittadino, così da andare incontro agli studenti pendolari e smorzare il traffico. Abbiamo ascoltato le scuole, il commento del primo cittadino. Noi abbiamo ascoltato le scuole, abbiamo ascoltato coloro che ovviamente in questo campo conoscono le problematiche e quindi abbiamo deciso di chiudere tutte le scuole superiori per evitare problemi a chi veniva da fuori, perché poi sulle scuole superiori molti vengono da fuori. Abbiamo chiuso le scuole medie e per quanto riguarda le scuole elementari abbiamo chiuso quelle dell'area centrale della città, quella interessata alle chiusure al traffico in modo che nessuno possa avere dei disagi nel portare i figli a scuola. Mentre per quanto riguarda le altre scuole i direttori didattici ci hanno indicato la possibilità, anzi la necessità di tenerle aperte, ma io penso che se un genitore vorrà portare il figlio a vedere il Giro d'Italia potrà portarlo tranquillamente, sarà giustificato perché domani ci sarà una grande festa a Pescara, stiamo vivendo oramai da un mese l'attesa del Giro d'Italia, sabato c'è stato il concerto di Jimmy Sachs che ha avuto un successo strepitoso, anche inimmaginabile, la città è tutta quanta rosa, si sta preparando a questa kermesse incredibile, la carovana del Giro d'Italia girerà per tutte le vie del centro.